Stasera alle ore 20 a Serino presso la frazione Rivottoli sarà inaugurato il nuovo campetto sportivo intitolato alla memoria di Luca Mariconda. Luca Mariconda è dato molto alla sua Serino a cui era profondamente legato legame speciale che si percepiva dalla passione con cui svolgeva il suo lavoro apprezzato da tutti anche da vicepresidente della Proloco di Serino. Questo campetto è stato voluto dall'intera comunità irpina con l'assessore con delega al turismo sport e spettacolo Sabino Matta che ha lottato finché questo sogno diventasse realtà. Luca era non solo un amico di tutti ma una persona speciale la sua tragica improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto in ognuno di noi. Intitolare questa struttura sportiva comunale alla sua memoria per noi significa dirgli grazie dal profondo del cuore per il contributo prezioso dato alla nostra comunità. Toccanti e ricco di commozione le parole del politico serinese prenderanno parte all'evento il primo cittadino di Serino Vito Pelosi il parroco Don Calogero Sala e il calciatore l'idolo di casa fresco di promozione in Serie A con l'Empoli Fabiano Parisi.